Nel 2013 la centrale del 118 dell'ASL 10 di Firenze ha gestito 110.000 interventi e dall'estate prossima sarà trasferita in una nuova sede. Il tutto nell'ambito di una riorganizzazione che entro l'ottobre di quest'anno ridurrà le centrali toscane da 12 a 6, collocate a Pistoia, Livorno, Siena, Arezzo, Firenze e Viareggio, e poi entro il 2016 a tre soltanto. Per fare una valutazione sul processo in corso Gianluca Lazzi, riconsigliere regionale di più Toscana Nuovo Centrodestra, entro febbraio visiterà tutte le centrali attualmente in funzione. Tutti protestano e non si capisce il perché. Allora, cosa c'è veramente di Acon 118? Quanti posti di lavoro? Che servizi per i cittadini? Cosa succede se la centrale è a Firenze, è a Prato o a Pistoia? Io voglio vedere per bene, voglio capire. Per capire se si parla di interessi dei cittadini o soltanto interessi della struttura, di fisime dei sindaci. Anche per evitare che investimenti recenti si trasformino in sprechi. Nel 2012 le centrali del 118 di Arezzo, Grosseto e Siena, ad esempio, sono state potenziate spendendo più di un milione e 300 mila euro. Secondo l'Azzeri è quindi necessaria una programmazione puntuale degli interventi e delle risorse da investire nella riorganizzazione. Io temo che si continui a metterle sui vertici, sulla burocrazia, sulle strutture e non sui servizi delle persone. Non mi nascondo che mi stupisce un po' che qualche sindaco non si è stracciato le bestie perché gli udevano gli istituti sanitari. Questo verrà chiuso tra pochi giorni, nessuno protesta, questo, e mentre su altre cose vediamo delle grandi giornalate, dei grandi gridi di allarme. Bisogna cominciare a vedere più a fronte su queste cose.